Bene, eccoci di nuovo insieme, questo è il nostro primo appuntamento e per il primo appuntamento bisogna anche, per il primo appuntamento di Music & Wine bisogna anche trovare la colonna sonora giusta, abbiamo pensato a questa cosa che sicuramente farà piacere a molti, ehebe, Blue Moon, ma andiamo a vedere subito la nostra cantina, la cantina di oggi che troviamo è quella di Terre d'Ora, Paolo Mastro Berardino, ancora di più il Papa Walter, bene, ci presentano questa cantina e soprattutto un nuovo vino, è Pago dei Fusi, l'ultimo nato, ed è proprio la passione di fare vino che regala agli amanti di questo vitigno autottono un ettare con caratteristiche che lasciano sicuramente in bocca e al naso uno splendido ricordo fotografico, come una calda sensazione di questo vento sulle colline di Monte Fusco, che tra un filare e l'altro porta questi profumi di quelle ciliegie mature che pervadono la bocca, oltre ai tannini setosi che al palato concedono eleganza. Bene, questo ultimo nato in casa a Terre d'Ora è Pago dei Fusi, dicevo, qualche notizia tecnica, diciamo che è un Taurasi naturalmente, o meglio ancora, nasce come aglianico e poi diventa Taurasi DOCG, ma è proprio la vendemmia del 2003 rappresentare la prima espressione di questo antico e evocato territorio della Valle del Calore, che viene presentata al mercato per la prima volta da Terre d'Ora di Paolo, la società agricola di Monte Fusco, con particolari caratteristiche ed elevata morbidezza dovuta alla peculiarità di questo microclima e del suo microambiente nel quale è posto il vitigno. vitigno che, ricordo, nasce proprio dietro il sagrato di un appezzamento di terreno che veniva gestito dalle suore di questo paese. Un particolare cognoso è proprio questa locazione che è tra il convento della congregazione religiosa e una bellissima pineta di pini marittimi. Per quanto riguarda invece la tecnica di produzione, posso mettere in evidenza la curata selezione delle uve raccolte a mano, cui segue poi una vinificazione con macerazione sulle bucce per circa 12 giorni a 28 gradi. A fermentazione completata, il vino matura in tonne di rovere francese per 24 mesi, per continuare poi l'affinamento in bottiglia per altri 24 mesi. Ancora una volta la natura, oltre all'esperienza e alla passione dell'uomo, ha dato vita ad una nuova realtà nel mondo vitivinicolo che sicuramente darà ottime soddisfazioni a chi lo produce e a chi lo degusta. Allora un grande brindisi a tutti voi con questo nuovo vino Pago dei Fusi, Terre d'Ora e Buon Natale! Buon anno anche! Arrivederci, alla prossima!